Anche quest'anno riproponiamo un grandissimo Natale in Urbino che partirà sabato, primo dicembre, e ogni sabato in Piazza della Repubblica ci sarà il tradizionale spettacolo curato da Ultrasound con musiche, suoni, luci, fuochi e neve. È ormai il terzo anno che facciamo questo tipo di iniziative con grande successo, quindi questo ogni sabato. L'8 e il 9 avremo anche la tradizione dei presepi, non solo la via dei presepi con l'esposizione di oltre 150 Natività, ma anche due rievocazioni storiche, perché questa è la nostra tradizione, quindi ci saranno due presepi rinascimentali che cureranno praticamente la messa in scena a un tableau vivant della Natività di Piero della Francesca. Il giorno di Natale poi avremo davvero una grande chicca. Abbiamo pensato che dopo pranzo la gente ha piacere di uscire e di venire in Urbino, di scambiarsi gli auguri, di festeggiare con i bambini e quindi avremo un carillon vivente che praticamente è un pianoforte che viene contemporaneamente suonato e mosso attraverso dei pedali da un pianista in vesti settecentesche e sopra questo pianoforte ci sarà una vera ballerina in tutù che ballerà sulle punte come le ballerine dei carillon tradizionali che conosciamo. Anche il giorno di Santo Stefano avremo uno spettacolo di luci, suoni e fuochi. Dimenticavo che il giorno di Natale con una slitta di Babbo Natale dell'Ottocento, è un vero Babbo Natale che la guiderà e porterà su questa slitta in giro per il centro i bambini, ci sarà anche la distribuzione di regali per quanti bimbi vorranno venire in Urbino a festeggiare con noi. Tanto ricordiamo che abbiamo una vera opera d'arte che è il presepe del Brandani, esposto all'oratorio accanto all'oratorio di San Giovanni con gli affreschi dei Salimbeni. Poi abbiamo le mostre, in contemporanea nel periodo natalizio, la mostra di Giovanni Santi che è il padre di Raffaello che rientra anche nelle celebrazioni raffaellesche. Avremo un quadro portato da Vittorio Sgarbi all'interno del castellare che sarà verosimilmente un guidoreni ma non voglio svelare più di tanto perché poi lo farà l'assessore. Abbiamo anche una mostra invece di arte più moderna che sarà di Walter Valentini nella galleria Albani comunale. insomma.